Nel termine di un'indagine condotta dai carabinieri di Pesaro in collaborazione con il RIS e sotto la direzione della locale procura sono state arrestate tre persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Pesaro per una rapina commessa ai danni di un imprenditore pesarese nell'estate del 2020. L'obiettivo era stato un orologio che l'imprenditore indossava nel corso di una cena al ristorante, ignaro che sarebbe stato pedinato e aggredito sotto casa davanti agli occhi della moglie. La risposta dell'arma è stata immediata e si è concretizzata in accertamenti sul territorio e in riscontri di laboratorio operati dal RIS su tracce lasciate dai rapinatori sul luogo dell'imboscata.